Tre giorni di grande impegno per gli organizzatori, ma anche e soprattutto di grande benedizione per i presenti che questo fine settimana hanno partecipato agli eventi in occasione del 22esimo anniversario della Chiesa Evangelica Internazionale di Favara. Tre giorni, aperti a tutti, di musica, di spettacolo e di condivisione di messaggi positivi presso i locali di Via Spagna. Si è partiti venerdì 16 novembre con il concerto Resital Time, scritto e diretto da Lillo Sorce, uno spettacolo che ha visto l'unione di attorialità con musica e danza, il tutto immerso in una particolare scenografia realizzata in mapping 3D. Sabato poi il concerto, messo in scena dei giovani talentuosi della Chiesa, a questo è seguita la proiezione del film La Croce, una pellicola che avvicenda due testimonianze, storie vere, di altrettante persone che ormai, vicine al tracollo della propria vita, ne hanno ritrovato la gioia e il valore in Dio. Alle voci presenti nel film si unisce quella di Billy Graham, il predicatore americano morto all'inizio di quest'anno, all'età di 99 anni, che per oltre 70 anni ha parlato a milioni e milioni di persone dell'amore di Cristo e dell'unione tra Dio e l'uomo per mezzo della croce. L'iniziativa rientra nel progetto My Hope Italia, organizzato dalla Billy Graham Association, che ha coinvolto sul territorio nazionale oltre 1700 chiese. Infine, domenica 18 si è tenuta una festa di celebrazione, con lodi, canti, predicazione del pastore senior della Chiesa Evangelica Internazionale di Favara, Giuseppe Dante, testimonianze e rinfresco finale con dolci e bevande. Occasione per ripercorrere questi 22 anni, in cui il Signore si è sempre dimostrato fedele, e per guardare al futuro, perché il meglio deve ancora venire. Occasione anche per ricordare come Dio cambia la vita delle persone, dando loro una nuova vita, una vita che vale la pena di essere vissuta a pieno e con gioia, sentendosi amati da colui che ce l'ha data.